Châtillon San Vensan, 17esimo meeting Ampas, un momento importante perché siamo a casa degli amici valdostani che hanno appena costituito il comitato regionale, ma siamo qui per fare tante cose insieme, intanto divertirci, stare insieme, contaminarci, ma poi soprattutto per alcuni appuntamenti formali come l'Assemblea, per dimostrare quella che è stata l'attività piuttosto intensa, pesante, importante del 2018 e pianificare il futuro nel contesto di quella che è la problematica della rete. Momenti interessanti con possibilità di visita in una regione stupenda e per stare insieme, per formarsi con aspetti riguardanti gli impianti radio, le emergenze e poi appunto per fare comunità l'elemento sostanziale più importante di Ampas e delle proprie pubbliche assistenze e dei propri volontari.